Dire sì all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, soprattutto in queste giornate importanti, dove i ragazzi e i genitori sono impegnati nell'attività di orientamento scolastico. Una scelta con un'importanza anche nel futuro e per questo arriva l'appello lanciato da Monsignor Giuseppe Schillaci, vescovo di Nicosia e delegato per l'educazione cattolica e la scuola della Cesi. Fatelo veramente con gioia, fatelo proprio per arricchire sempre di più la vostra umanità, per rendere più belle le vostre scelte da oggi fino a continuare nella vostra esistenza con questo entusiasmo. Fatelo carissimi genitori, fatelo carissimi studenti, tutti quanti, con grande senso di bellezza, di umanità, di semplicità. Fatelo proprio perché tutto questo vi farà crescere. La Sicilia offre un dato significativo a livello nazionale di quanti si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Infatti per l'anno scolastico 2021-2022 la percentuale ammonta al 96%, con anche un 45% degli studenti stranieri, quindi quelli che provengono da altre esperienze culturali, religiose o filosofiche, che frequentando la scuola in Sicilia scelgono l'insegnamento della religione cattolica. Questo è un momento importante per quando riguarda la scelta degli alunni per le iscrizioni e soprattutto appunto per scegliere anche la possibilità di potersi avvalere o no dell'insegnamento della religione cattolica. È una disciplina che ancora ha senso che ci sia all'interno della scuola. È una disciplina che io dico sempre fa la differenza. È una disciplina che in qualche modo accompagna non soltanto la formazione appunto dell'alunno, ma soprattutto anche la possibilità di poter dare loro anche quelle risposte o comunque porsi davanti appunto a tutta una serie anche di domande e di riflessioni, di cui ancora oggi gli alunni, la nuova generazione, i millennials, i ragazzi appunto dell'era digitale, di fatti si pongono.